La Sara Cinesca si era abbassata per l'ultima volta nel novembre 2021. Adesso, a quasi due anni dalla chiusura, sono partiti i lavori al Caffè dei Costanti in Piazza San Francesco, di fronte all'omonima Basilica che custodisce uno dei capolavori di Piero della Francesca. Ad acquistare il locale che nel 1997 fece il Giro del Mondo grazie al film a Premio Oscar La Vite Bella di Benigni, era stato Patrizio Bertelli, patron di Prada, che si era giudicato il Caffè dei Costanti dopo aver partecipato all'asta lanciata da Intesa San Paolo, proprietaria dell'immobile ereditato da Ubi, a sua volta da Banca Etruria. L'imprenditore aveva offerto 1.600.000 euro. È ancora presto per dire con certezza quando le Sara Cinesche in Piazza San Francesco verranno finalmente rialzate, forse ci sarà da attendere il 2024 inoltrato, ma intanto gli interventi sono partiti. Non si tratterà di uno stravolgimento strutturale, visto che i locali sono interessati dal vincolo della soprintendenza, ma di un restyling generale che lascerà comunque l'impronta inconfondibile che contraddistingue i locali di Patrizio Bertelli. Dall'imprenditore era passata anche la salvezza di due altri immobili storici, sempre nella stessa piazza, quello dell'ex farmacia del Cervo e del ristorante La Buca di San Francesco, recentemente riaperto al pubblico.